In pieno luglio Sciacca non riesce ad uscire dall'ennesima emergenza idrica, disagi vengono denunciati da giorni in diverse zone del centro e delle periferie, tra turni ridotti o addirittura saltati. Di Paola protesta con Girgenti Acque. Le schermaglie tra gli schieramenti hanno fatto saltare ieri sera l'approvazione del regolamento per la raccolta differenziata da parte del Consiglio Comunale di Sciacca. Niente numero legale, Calogero Bono invoca più senso di responsabilità. Regolamento sulla raccolta differenziata regolarmente approvato invece ieri sera dal Consiglio Comunale di Ribera. Intanto la Regione vara il suo progetto di riforma del settore dei rifiuti. Si torna all'antico con noveato in tutta la Sicilia. Torna in carcere Pietro Campo è ritenuto il capomafia di Santa Margherita Belice. Il suo arresto oggi da parte della squadra mobile di Palermo e Agrigento. Arrestati anche il ciancianese Ciro Tornatore e Vincenzo Marrella di Cattolica Eraclea. È stata la Capitaneria di Porto a indicarci Lidi dove ubicare le postazioni del servizio di vigilanza sulle spiagge. Così oggi l'assessore Arramo cognata replica l'interrogazione presentata ieri dal consigliere Simone Di Paola. Il governo Crocetta ritira l'emendamento da 3 milioni di euro in favore del progetto di riapertura e rilancio delle terme di Sciacca e l'ennesimo rallentamento di un processo infinito che vede le terme chiuse da un anno e mezzo. Un cordiale saluto ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. A due settimane dall'ultima emergenza idrica ci risiamo. Da giorni si registrano disagi alla fornitura con turni saltati o ridotti in via Licata e in alcune zone del centro. Oggi segnalazioni giungono alla nostra redazione anche dalle contrade Isabella e Sant'Antonio dove i turni saltati sono già tre e il sindaco Fabrizio Di Paola ha chiesto spiegazione dei disservizi a Girgenti Acque mentre i cittadini sono costretti a fare ricorso alle autobotti private per approvvigionarsi il servizio di Maria Luisa Sant'Angelo. Ci risiamo. Nuova emergenza idrica in città in questi giorni. Alle diverse lamentele giunte ieri alla nostra redazione sui disservizi nell'erogazione dell'acqua dalla zona di Velicata e dei vicoli vicini, stamattina si sono aggiunte quelle dei residenti della zona est di Sciacca, per intenderci da Isabella, Sant'Antonio e Sovareto, contrade dove sono saltati ad oggi tre turni di erogazione. Praticamente una settimana senza acqua. Al call center di Girgenti Acque, affermano alcuni telespettatori alla nostra redazione, non hanno saputo fornire risposte sui tempi di ripristino perché, avrebbero detto, il livello delle vasche è ancora troppo basso. Di più, gli utenti che hanno chiamato il gestore idrico dicendo di essere a secco sono stati pure inseriti nell'elenco dei destinatari di un'autobotte, ma sono stati anche avvertiti dai tempi lunghi di attesa, considerate le troppe richieste. In soldoni, meglio arrangiarsi con gli autobotti private. Delle lamentele si è interessato il sindaco Fabrizio Di Paola che ha chiesto spiegazioni ai Girgenti Acque. Sembra che alla base del problema ci sia il surriscaldamento delle pompe di erogazione. Probabilmente lo stesso problema o qualcosa di simile era avvenuto già nelle scorse settimane per le pompe dei Pozzi Carboi, quando i turni di erogazione saltati erano stati almeno due. Ma la spiegazione fornita al sindaco non è sembrata sufficiente e Di Paola avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti ai Girgenti Acque. Per il primo cittadino, qualunque sia la causa determinante di questi disservizi e competenze il gestore idrico risolverli è nel breve tempo. Problemi che tornano puntuali giusto in estate, quando un surriscaldamento delle pompe, viste le alte temperature, è pure immaginabile. Sarebbe altrettanto immaginabile prevenire ed evitare il ripetersi di questi disagi in un periodo in cui in città quasi raddoppiano gli abitanti e le esigenze legate all'approvvigionamento. Insomma, quella iniziata ha già tutta l'area di essere un'estate l'insegna delle emergenze idriche nel territorio, dal momento che siamo alla seconda in poche settimane. Il rischio è che, come negli scorsi anni, a pagarne le conseguenze siano sempre i cittadini e i turisti della città, ospiti delle strutture ricettive rimaste in passato a secco pure loro. E se il guasto ci può anche stare, basterebbe non farsi trovare sempre impreparati, soprattutto in estate. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza l'abuso d'ufficio finalizzato all'integrazione di reati in materia di edilizia e urbanistica, la Procura della Repubblica di Sciacca ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei proprietari di una villa in costruzione sulla zona panoramica nella via Allende. L'avviso di conclusione delle indagini riguarda anche il tecnico incaricato della redazione del progetto e della direzione dei lavori e due funzionari dell'ufficio tecnico del Comune di Sciacca ritenuti responsabili del rilascio di una concessione edilizia illegittima. Questo provvedimento si inquadra nell'ambito delle iniziative assunte dalla Procura della Repubblica di Sciacca finalizzate al contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio in zone sottoposte a vincoli paesaggistici ampiamente diffuso nel territorio del circondario. Maggioranza presente con 11 consiglieri, opposizione che decide di abbandonare l'aula. Niente numero legale, ieri sera al Consiglio Comunale di Sciacca che avrebbe dovuto approvare il regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti. E c'è l'amarezza del presidente di Sala Falcone Borsellino, Calogero Bono. Così è difficile andare avanti. In conferenza dei capi gruppi era stato deciso di dare massima priorità al documento, ma così non è stato. Presidente del Consiglio Comunale che invoca un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti i consiglieri per quest'ultimo scorcio di mandato. Sentiamo Calogero Bono da noi intervistato. Anche ieri sera niente numero legale al Consiglio Comunale di Sciacca che di conseguenza non ha potuto procedere all'approvazione del regolamento sulla raccolta differenziata che i consigli comunali su disposizione della regione erano chiamati ad adottare entro il 7 luglio scorso. Dopo la seduta di martedì sera andata deserta, ieri occorrevano 12 consiglieri per dare il via ai lavori d'aula, ma la maggioranza era presente con 11 consiglieri e i 6 consiglieri di opposizione hanno preferito abbandonare l'aula. Oggi è il presidente del Consiglio Comunale, Calogero Bono, ad esprimere grande amarezza per ciò che è successo ieri sera. All'ordine del giorno dice c'era un punto molto importante e in conferenza dei capigrupper è stato deciso di dare massima priorità al documento, ma così non è stato e continuando di questo passo è davvero difficile andare avanti. Ieri sera inaspettatamente il numero legale è caduto perché l'opposizione ha deciso di abbandonare l'aula e la maggioranza non aveva i numeri per proseguire la seduta a 12 consiglieri comunali. Dico inaspettatamente perché la conferenza dei capigruppo che si era tenuta la settimana scorsa aveva definito un programma di lavori in aula che sembrava essere di di larga intesa visto che c'era questo adempimento che veniva da una ordinanza del presidente della regione che riguarda l'igiene e la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio vista anche l'emergenza degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Quindi sembrava pacifico che si potesse trovare un'intesa sullo svolgimento dei lavori in aula invece non è stato così e pertanto sono oggi ad esprimere la mia amarezza perché non è la prima volta che succede e quindi in questo scorcio finale di consigliatura auspico che ci sia un'inversione di tendenza e si possa trovare insomma un modus operandi per svolgere i lavori in aula nel miglior modo possibile. Presidente del Consiglio Comunale che poi invita tutti i consiglieri ad un maggiore senso di responsabilità Sento l'esigenza di lanciare questo appello al senso di responsabilità e dico non voglio assolutamente puntare il dito contro nessuno non c'è assolutamente da parte mia un richiamo a una parte politica però è pur vero che spesso magari ci sono anche consiglieri comunali che auspicano che ci siano, che si tengano consigli comunali che si parli e si affrontino temi che riguardano voglio dire la nostra comunità salvo poi non presentarsi in aula per discuterne quindi auspico che in questa parte finale di consigliatura si possa trovare una sintesi e quantomeno per quanto riguarda i temi che sono di carattere generale e che non hanno strettamente rilevanza politica si possa trovare un'intesa fra le diverse parti in aula poi ci sarà un momento in cui evidentemente le singole parti politiche che possono svolgere la propria azione politica anche facendo rilevare quelle che sono le deficienze dell'amministrazione in ordine al regolamento sulla raccolta differenziata che avrebbe dovuto essere trasmesso alla regione entro il termine del 15 luglio e questo infine l'orientamento del presidente di sala Falcone Borsellino i termini dell'ordinanza commissariale non sembrano essere perentori quindi se la conferenza dei capigruppo definisce un percorso voglio dire in cui si possa trovare un'unità di intenti io mi voglio determinare nel riportarlo in aula e approvarlo non vorrei vedermi calato dall'alto dalla presidenza della regione un regolamento che magari non sia confacente a quelle che sono le esigenze del nostro territorio e come anticipato dal presidente Calogero Bono il regolamento sulla raccolta differenziata sarà all'ordine del giorno della nuova seduta del Consiglio Comunale di Sciacca convocata per martedì prossimo 19 luglio alle ore 20 lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo ancora una volta una parte dell'opposizione quella che ieri sera ha fatto cadere il numero legale mostra di avere poco interesse nei confronti della città è così che il consigliere del nuovo centrodestra Giuseppe Emilioti commenta l'atteggiamento di ieri sera dell'opposizione l'unione della sinistra tanto auspicata dal neosegretario cittadino del PD Michele Catanzaro non inizia certo nel migliore dei modi conclude Giuseppe Emilioti stigmatizzando il fatto che a chiedere la verifica del numero legale non concordata con il capogruppo del suo partito Gioacchino Settecasi sia stato ieri sera il consigliere del PD Simone Di Paola il regolamento sulla raccolta differenziata è stato invece approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Ribera noi abbiamo fatto la nostra parte rispettando ciò che la regione ci ha imposto dichiara al nostro telegiornale il presidente di Sala Frenna Giuseppe Tortorici che non manca di criticare il modo con cui il governo regionale sta gestendo la delicata vicenda dei rifiuti seguiamo quest'altro servizio il regolamento sulla raccolta differenziata è stato approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Ribera ad approvare il documento i 10 consiglieri di maggioranza presenti in aula si sono invece astenuti i 6 consiglieri di opposizione noi abbiamo fatto la nostra parte commenta oggi al nostro telegiornale il presidente di Sala Frenna Giuseppe Tortorici che non manca di rimarcare come la regione abbia messo a disposizione dei comuni pochissimo tempo per adeguare il regolamento alle esigenze delle singole municipalità abbiamo risposto al dettame della regione che dava dei termini ben precisi per l'approvazione di questo regolamento che ogni comune appunto poteva adeguare a quelle che erano le esigenze tipiche del territorio diciamo che noi abbiamo fatto la nostra parte approvando questo regolamento per la gestione dei rifiuti regolamento che in buona sostanza punta molto sul discorso della raccolta differenziata quindi pone l'attenzione appunto all'incentivazione della raccolta differenziata stante la situazione che ci stiamo trovando diciamo così a vivere giornalmente sui rifiuti vediamo non solo anzi Ribera devo dire che rispetto ad altri comuni si trova in una situazione mediocre diciamo però è chiaro che c'è malcontento da parte da parte di tutti su questa gestione a livello regionale perché i passi che si stanno facendo ora si potevano fare benissimo in tempi non sospetti cioè prevedere un po' quello che sarebbe avvenuto quindi sostanzialmente il Comune il Consiglio Comunale ha approvato questo schema noi abbiamo fatto la nostra parte speriamo che adesso magari ci sia una come dire attuazione e una risposta anche da parte dei cittadini perché è fondamentale incentivare la raccolta differenziata e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Ribera arriva l'accorato appello alla Regione a gestire il sistema dei rifiuti in maniera meno confusionaria e a fare in modo soprattutto che si evitino nuove emergenze igienico-sanitarie siamo stati chiamati ad andare a approvare un regolamento che come dire in tempi veloci il Comune ha approntato questo regolamento però evidentemente come dire non abbiamo avuto il tempo come dire materiale per poter apportare quelle magari modifiche più consone per il nostro per il nostro territorio è chiaro che anche i dirigenti oggi c'è un'ordinanza domani l'ordinanza di ieri non serve più c'è una gestione da parte della Regione che lascia molto a desiderare speriamo che da qui in avanti magari si possa correggere un po' il tiro per evitare soprattutto in questo periodo estivo emergenze igienico-sanitarie e nel pieno della crisi del settore l'Aggiunta regionale di Governo ha dato il via libera alla nuova riforma dei rifiuti anziché un ato unico così come aveva inizialmente annunciato l'assessore Vania Contraffatto ne nasceranno nove saranno affidati ai sindaci ai quali si affiancherà un soggetto regionale che fungerà da stazione appaltante unica con funzioni di controllo il nuovo progetto di legge sarà pronto secondo l'assessore Vania Contraffatto entro la prossima settimana e poi sarà trasmesso a Roma prima di un nuovo passaggio in giunta lo spirito della legge spiega la Contraffatto sarà sempre la tutela dei livelli occupazionali il sistema sarà organizzato in modo che ci sia anche un aiuto ai comuni in favore della raccolta differenziata mafia torna in carcere Pietro Campo ritenuto il capo mafia di Santa Margherita Belice è stato arrestato dalla squadra mobile nell'ambito dell'operazione Icaro insieme a Campo dietro le sbarre sono finiti anche il ciancianese Ciro Tornatore e il cattolicese Vincenzo Marrella ci racconta tutto Massimo D'Antoni è un'altra appendice dell'operazione antimafia Icaro la prima risalente a sette mesi fa quella che nelle scorse ore è culminata col blitz della polizia di Agrigento a Palermo e che ha fatto finire in carcere Pietro Campo 64 anni ritenuto al capo mafia di Santa Margherita di Belice Ciro Tornatore 81 anni di Cianciana e Vincenzo Marrella 42 anni di Cattolica Caraclea sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi da fuoco arresti che in realtà erano già stati chiesti dagli inquirenti lo scorso mese di dicembre tuttavia all'epoca il GIP del Tribunale non accolse quell'istanza ne è scaturito il ricorso prima al Tribunale della Libertà e poi alla Cassazione Suprema Corte che nei giorni scorsi si è pronunciata a favore della misura restrittiva che è dunque quella eseguita nell'escorsione dalla squadra mobile il nome di Pietro Campo era tornato alla ribalta delle cronache nei giorni scorsi nell'ambito di un'altra operazione antimafia quella denominata Opunzia secondo la DDA Campo e Leo Sutera quest'ultimo detto il professore capo mandamento di Sambuca di Sicilia e per due anni capo mafia dell'intero territorio provinciale sarebbero stati i punti di riferimento con cui concertare la riorganizzazione della cosca del territorio compreso tra Sciacca e Menfi ricostituzione della famiglia mafiosa che secondo i carabinieri sarebbe stata affidata a Vito Bucceri e i suoi presunti sodali Pellegrino Scirica Tommaso Gulotta Matteo Mistretta Vito Riggio Giuseppe Cosimo Alesi e Domenico Friscia Pietro Campo adesso torna in carcere dopo essere stato già coinvolto nel 2002 nella prima operazione Cupola il suo arresto giunge qualche giorno dopo la cattura di Lillo Di Caro e Saro Meli rispettivamente boss di Canicattì e Camastra sia Campo sia Ciro Tornatore Ciancianese sono ritenuti almeno fino al 2013 esponenti di primo piano della mafia grigentina in particolare secondo la direzione distrettuale antimafia Pietro Campo sarebbe stato esponente di punta per la zona occidentale della provincia la prima fase dell'inchiesta a Icaro risale al 2 dicembre 2015 all'epoca furono eseguite 13 misure cautelari ulteriori nove arresti risalgono invece lo scorso 26 maggio anche in quel caso da agire furono le squadre mobili di Agrigento diretta da Giovanni Minardi e di Palermo diretta da Rodolfo Ruperti l'indagine culminata con gli arresti di oggi è stata diretta dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo dai pubblici ministeri Rita Fulantelli Emanuele Ravaglioli Claudio Camilleri e Bruno Brucoli coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia gli arrestati dopo gli adempimenti di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione della competente autorità giudiziaria uno squalo volpe è stato avvistato recuperato e poi rimesso in acqua a 7 miglia dalla spiaggia di Secca Grande a Ribera si tratta di uno squalo di circa 200 kg e della lunghezza di 3 metri e 70 cm è stato avvistato da due pescatori riberesi impegnati in una battuta di pesca sportiva che tramite UNESCO hanno pescato l'esemplare dopo aver avvisato la Capitaneria di Porto e il Centro Nazionale di Ricerche verificato che non rappresentasse pericolo lo squalo è stato rimesso in acqua è stata la Capitaneria di Porto a indicarci dove sistemare le postazioni per il servizio di vigilanza sulle spiagge così l'assessore Gaetano Cognata replica oggi all'interrogazione presentata ieri dal consigliere Simone Di Paola le nuove postazioni sono quelle di Renelle Maragani parecchio richieste da residenti e turisti il servizio di Calogero Parla Piano La scelta che ha portato all'allocazione delle torrette dei Bagnini è stata coordinata dalla Capitaneria di Porto di Sciacca così l'assessore al ramo Gaetano Cognata replica all'interrogazione di ieri presentata da Simone Di Paola il servizio di vigilanza che è partito la scorsa domenica è stato previsto in sei diversi litorali tra cui alla Renella il servizio è partito i primi di luglio quindi perfettamente in tempo all'inizio della stagione estiva con la maggiore presenza ai bagnanti nelle nostre spiagge quest'anno c'è stata una importante novità che è quella di riuscire a ottenere rispetto agli anni precedenti un importante risparmio di spesa sono passati da quasi 90.000 euro a circa 50 quindi un risparmio quasi del 40% e utilizzando delle cooperative anziché delle ditte quindi questa è stata una scelta veramente importante siamo riusciti a anche aumentare il numero di torrette presenti nel territorio fino a qualche anno fa ce ne erano 4 quest'anno ce ne sono 6 sulla scelta anche per ritornare un po' sulle polemiche fatte da qualche consiglio comunale sulla scelta è chiaro che ci sono delle motivazioni di natura tecnica che non prende il comune ma questa scelta di dove allocare le postazioni viene fatta di concerto con la capitania di Porto che ha sicuramente maggiore competenza rispetto al comune su dove e come mettere le varie torrette quando si migliora nettamente un servizio io credo che un consigliere di opposizione dovrebbe evitare qualsiasi tipo di polemica perché dovrebbe ricordarsi quello che veniva fatto quando possibilmente loro hanno avuto l'opportunità di amministrare questa città se fino a poco tempo fa c'erano quattro torrette con 90.000 euro e il periodo era sempre lo stesso non capisco perché quando si aumentano le torrette del 50% si risparmia il 40% in termini economici che in questo momento per il comune sono abboccate d'ossigio che ci permette tra l'altro di poter garantire ulteriori servizi ai cittadini non si capisce perché si critica il periodo che non è stato assolutamente diminuito rispetto a quello che veniva fatto fino a qualche anno fa è chiaro in futuro se ci sono maggiori risorse a disposizione si può anche pensare a un'estensione del servizio però dico siamo a fare delle scelte il servizio di vigilanza in spiaggia è un servizio che avevate richiesto fortemente già a partire dallo scorso anno perché l'anno scorso eravamo scoperti del bagnino ci siamo procurati noi a mettere il salvagente vicino alla postazione dove abbiamo la abbiamo la concessione demaniale fortunatamente non è mai successo niente e così siamo andati avanti nelle giornate di mareggiata il servizio di vigilanza è importante? è importantissimo vedi questo momento qua vedi come come la spiaggia la corrente è pericolosa il bagnino è importante noi comunque prestiamo servizio dalle 9 alle 19 comunque tutti i giorni in caso di emergenza dico voi siete pronti sempre ad intervenire? sì siamo sempre pronti abbiamo tutto il kit a norma con l'ordinanza della capitania di porto dunque siamo anche dei professionisti appunto spieghiamo a chi ci ascolta la differenza delle bandiere che è utilizzata secondo le condizioni marine sì le bandiere appunto per ora abbiamo una bandiera rossa che vuol dire comunque sconsigliata la balneazione perché c'è appunto come potete vedere un mare molto grosso e c'è la bandiera gialla che vuol dire comunque forte raffiche di vento e si consiglia la chiusura degli ombrelloni per non farli appunto volare e la bandiera bianca e la libera balneazione qual è il consiglio che possiamo dare ai bagnanti per evitare qualsiasi rischio? ma sicuramente per evitare tutti i rischi ascoltate sempre il consiglio dell'assistente bagnanti e non allontanatevi troppo dalle botte di sicurezza Il governo Crocetta ritira l'emendamento che prevedeva la destinazione di 3 milioni di euro in favore del progetto di riapertura e rilancio delle terme di Sciacca è l'ennesimo rallentamento di un processo infinito che vede le terme irrimediabilmente chiuse a Palermo si immagina di ricorrere ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ma la sensazione prevalente è che l'annunciato tentativo di salvare le terme sia solo una manovra pre-elettorale Mentre si accingono a partire gli attesi lavori gestiti dal Genio Civile per la realizzazione dell'allaccio fognario per stabilimento e Grand Hotel da Palermo giunge l'ennesimo stop al possibile sparato rilancio delle terme di Sciacca Il governo Crocetta infatti ha deciso di ritirare l'emendamento alle variazioni di bilancio presentato dall'assessore Alessandro Baccei quell'emendamento che prevedeva la destinazione di 3 milioni di euro utile alla fuoriuscita della S.P.A. dallo stato di liquidazione nel quale si trova da anni con la conseguente possibilità per la stessa Regione di riacquisire e riunificare i beni tuttora in vendita a partire dall'ex Motelagip Adesso pare che ci sia un piano B questo prevederebbe stando però solo alle indiscrezioni delle ultime ore la contrazione di un mutuo da parte della Regione con la Cassa Depositi e Prestiti Provvedimento che naturalmente comprende anche la possibilità di intervenire sulle terme 10 reale come è giusto che sia la decisione di ritirare l'emendamento sembra inquadrarsi in una sorta di assalto alla diligenza che si era configurato nelle scorse ore si immaginava infatti che 3 milioni necessari potessero essere prelevati dal Fondo Etico di Solidarietà per il microcredito alle famiglie una scelta complicata che ha registrato l'opposizione di diversi deputati regionali soprattutto di quelli del Movimento 5 Stelle ma non tanto sui fondi da destinare alle terme quanto su quelli che si pensava di poter destinare al finanziamento delle scuole paritarie un modo per togliere ai poveri per dare ai ricchi secondo i grillini anche se sulla questione termale si sarebbe potuto probabilmente sperare in qualche spiraglio trattandosi di una questione di portata ben diversa ma ora si riparta da capo il fondo etico non si tocca dunque e si cercheranno altre soluzioni a deciderlo lo stesso Alessandro Baccei la conseguenza è che siamo all'ennesimo rallentamento di un processo infinito quello che vede le terme di Sciacca impossibilitate a muovere un solo passo e il liquidatore Carlo Turriciano in attesa di nuove disposizioni da Palermo questione che di recente ha visto il governo che le terme le ha chiuse un anno e mezzo fa tornare a ipotizzare una via legislativa per addivenire in un modo o nell'altro nella riapertura delle terme di Sciacca una soluzione prospettata da Baccei nei mesi scorsi ad un gruppo di consiglieri comunali e poi ribadita più recentemente a Fabrizio Di Paolo in persona durante un incontro convocato dallo stesso assessore in accoglimento di una specifica istanza presentata dal sindaco quest'ultimo aveva chiesto di essere informato come era giusto che fosse su tutte le novità che la regione stava studiando in merito al futuro delle terme Terme di Sciacca nel frattempo abbandonate ed è legittimo il sospetto che il tentativo della regione di correre ripari alla fine sia solo una manovra preelettorale visto e considerato che l'anno prossimo ci sono nuove elezioni e che tutte le istanze immediatamente successive alla decisione del marzo 2015 di chiudere istanze volte a risolvere la questione non solo non sono state recepite ma hanno registrato forti irrigidimenti come quelli del settore società partecipate la cui responsabile Grazia Terranova più volte aveva evidenziato che le terme di Sciacca bisognava chiuderle prima sembra tramontata definitivamente nel frattempo anche l'ipotesi che si possono riaprire gli impianti affidandoli attraverso il meccanismo dell'affitto di ramo d'azienda improvvisamente di recente si è appreso che ora la regione vuol tentare di risolvere il problema risultato il ritiro dell'emendamento presentato dallo stesso governo Siamo già a metà luglio e nulla trapela Sciacca città vocazione turistica del programma estivo che l'assessore Monte con tanta laboriosità sta cercando di presentare così il consigliere comunale Cinzia Deliberto lamenta il ritardo nella presentazione dell'iniziativa in programma durante l'estate salcenze e sollecita l'assessore a provvedere al più presto anche se ormai conclude siamo a metà luglio e quindi già in forte ritardo dunque niente concerto dei ricchi e poveri sabato sera 16 luglio la notizia è arrivata ieri intorno all'ora di pranzo gli organizzatori rimborseranno il biglietto a chi lo ha acquistato a partire dal lunedì prossimo 18 luglio presso gli stessi luoghi dove il tagliano era stato acquistato il concerto originariamente programmato in piazza Mariano Rossi era stato poi spostato alla perriera in piazza Alessandro La Rosa adesso è stato definitivamente annullato al via in provincia di Agrigento il programma di prevenzione degli incidenti da parte della polizia stradale che si avvarrà anche dell'ausilio di autovelox telelaser ed etilometro sentiamo scatta il programma di controllo delle strade grigentine da parte della polizia stradale un programma voluto dal comando del compartimento polizia stradale sicilio occidentale di Palermo in conformità alle direttive del dipartimento di pubblica sicurezza nell'ambito del piano stabilito dal questore di Agrigento in occasione dell'esodo estivo un programma che tiene conto dell'intensificazione del traffico soprattutto nel periodo dell'estate che riguarda il tratto di statale 115 compreso tra Menfi e Licata il tratto della 640 Porta Empedocle Caltanissette e quello della statale 189 Agrigento Palermo si prevedono grossi spostamenti di utenti dall'entroterra Agrigentino e delle altre province verso le nostre località balneari l'attività delle pattuglie della polstrada sarà caratterizzata dalla presenza costante sulle strade della provincia allo scopo di prevenire illeciti ma anche garantire assistenza ad utenti che fossero in difficoltà sarà attivo il collegamento tra il centro operativo compartimentale la sala operativa della sezione e le pattuglie per far fronte alle richieste di soccorso sanitario e meccanico che si dovessero rendere necessari la polizia stradale annuncia che si avvarrà dell'ausilio di autovelox telelaser ed etilometro per reprimere le infrazioni alle norme di comportamento che assumono un più alto grado di pericolosità soprattutto in questo periodo le stesse apparecchiature speciali in particolare precursore ed etilometri saranno utilizzate nei servizi già predisposti nei pressi di locali notturni e discoteche a luglio e agosto per prevenire il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera poi saranno effettuati controlli incisivi nel settore del trasporto merce e persone per reprimere le infrazioni commesse dai veicoli pesanti con l'ausilio in specifiche giornate di personale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti la polizia stradale invita la prudenza e dispensa alcuni suggerimenti agli utenti come controllare prima di mettersi alla guida dell'efficienza della funzionalità del proprio veicolo evitare di mettersi in viaggio in condizioni di stress o stanchezza dopo aver pranzato o cenato evitare di sovraccaricare l'autovettura osservare le distanze di sicurezza azionare la freccia prima di effettuare un sorpasso manovra di svolta rispettare i limiti di velocità dotarsi sempre di acqua potabile utile in caso di sosta forzata verificare la validità della patente dell'assicurazione dell'avvenuta revisione del veicolo indossare le cinture di sicurezza e così via rese pubbliche infine le statistiche degli interventi della polizia stradale di Agrigento nei primi sei mesi dell'anno sono ancora troppe le infrazioni registrate per mancato uso delle cinture di sicurezza ben 1.256 più di 800 le vetture che si è scoperto a non essere revisionate 329 quelle senza assicurazione 111 le infrazioni per guida senza patente 252 quelle per superamento dei limiti di velocità 24 le case di infrazione per guida in stato di ebbrezza alcolica il verde è la città questo è il titolo del talk show che si terrà domani pomeriggio alle ore 18 all'interno della villa comunale Ignazio Scaturro di Sciacca si parlerà di qualità dell'ambiente di benessere sociale e di salute tra gli ospiti Sergio Panunzio Salvatore Labella e Giuseppe Bazzan a condurre il talk show sarà la giornalista Giovanna Venezia la manifestazione organizzata dal comitato Pro Villa Comunale In efficienza del sistema con ricadute dirette sui dipendenti è quanto denuncero dalla segreteria regionale dell'UGL in ordine alla situazione presente all'interno dell'ASP di Agrigento diversi punti rispetto ai quali il sindacato chiede che si intervenga tra questi la riduzione dell'orario di lavoro dei contrattisti ex LSU e del sovraccarico delle mansioni per il personale interno il servizio di Francesca Ciaccio Ancora una volta come spesso accade nella sanità siciliana vengono effettuate delle manovre finanziarie contraddittorie e paradossali in virtù di una razionalizzazione delle risorse che risulta inspiegabile ed ambigua è l'allarme lanciato dalla segreteria generale UGL Unione generale del lavoro Federazione regionale della sanità in merito alla situazione riguardante l'ASP di Agrigento UGL che manifesta preoccupazione in ordine ad alcune problematiche che persistono nell'azienda sanitaria provinciale agrigentina che come si legge nel comunicato diramato oggi compromettono l'efficienza del sistema con inevitabili ricadute dirette sui dipendenti Tra le questioni in ordine alle quali il sindacato chiede di intervenire la riduzione dell'orario di lavoro dei contrattisti ex LSU a fronte di incarichi doppione di categorie di personale della dirigenza o del comparto già in precedenza dichiarato adeguato se non addirittura in sovrannumero e che pesa sul bilancio i ragionevoli appare poi scrivono dall'UGL l'attivazione di posizioni organizzative affidate a chi non avrebbe la competenza è stata inoltre operata continuano una insensata esternalizzazione di raccolta di sangue cordonale affidando il servizio al personale interno costringendolo a dover percorrere quotidianamente centinaia di chilometri per l'intero territorio regionale con usura di uomini e mezzi infine l'unione generale del lavoro pone l'attenzione sul concorso di riqualifica del personale interno ausiliario alla figura dell'operatore sociosanitario ormai bloccato da tempo tutto questo commentano dal sindacato si ripercuote sulla tenuta e sull'efficienza del sistema il panorama della sanità pubblica grigentina scrivono non consente di sperare per il meglio e anziché tracciare un percorso di crescita e di miglioramento fa molti passi indietro l'UGL ha già chiesto un incontro con i vertici dell'ASP per definire alcune soluzioni e chiedere delucidazioni a proposito di disservizi intanto oggi il tribunale per i diritti del malato e cittadinanza attiva di Sciacca lamentano la chiusura dell'ufficio in relazioni con il pubblico del Giovanni Paolo II in vano è stato chiamato il numero verde spiegano dal movimento perché nessuno risponde ed è paradossale concludono per un ufficio che dovrebbe essere a disposizione dell'utenza proprio per ricevere segnalazioni e fornire informazioni era l'ultimo servizio del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi do appuntamento per l'attenzione